siamo in live ciao moro non ho più voglio il gatto vabbè allora vento esprit 3 2 1 ha vinto esprit 3 2 3 3 che cazzo allora sono andato dal barbiere mi ha detto vabbè dai ti faccio la pinna come morelli poi io me la sono schiacciata perché non volevo somigliare a morelli il pessima scelta ma ha tagliato ma ha tagliato un sacco ha detto ma sì voglio voglio stare fresco e ha detto vabbè fresco grazie ai termos per il fresco il problema sapete qual è che ho sofferto tutta l'estate con i capelli lunghi che crescevano e morivo di caldo adesso che in teoria arriva il fresco è la fine grazie a hamstrung per i suoi 18 mesi non è vero 8 erano non 18 grazie a rora grazie a heli wolfy grazie ad atlas connor e grazie ad abo che fa 12 anni no no sono 10 mesi non 12 anni scemo casualmente ha vinto esprit che vigliere abbassi la cresta né grazie joxy buonasera non li ho visti soldi gatto allora devo devo bacchettarvi devo bacchettarvi perché effettivamente vi avevo aspetta che non ho fatto la storia su insta zio come si fa qua c'ho le mani tutte piccicose che schifo perché volevo spammarlo un evento grazie all'uomo nero 9 perché l'applicazione di instagram quasi di instagram di 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 come si chiama il programma dove streamiamo moro twitch perché non va una sega mai ogni volta ma a quelli che non sanno usare il computer e siamo finalmente in live con golfini non è vero e si vedete si nella storia si aspetta devo swipare faccio così la linea posso farla viola in post no è whip l'ho scritto male ma chi se ne feria fai chi cazzo lo usa in instagram come si compra per te fa ho una direct messaggio me ne sbiatto chiudo bella raga e paura testa di merda testa di merda quando se la diarrea a spruzzo a fi come funziona e quando cagli fischi cazzo ma vorrei non con la bocca e no ho capito e come è un fischietto nel culo come i pupazzi dei cani no no è la cacca che ti fa fischiare si ho capito quando quando sforzo fuori fischia però fa malissimo perché adesso non è che aggiungi roba perché l'aria è tagliente grazie al radio active land guarda quell'altro che dice fa cacare stringi brigate e poi ci gioca buonasera 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 grazie sbrego che cosa si no salve ganto ho fatto un'intervista e si va in usa per fare la tesi grande cazzo salutami tutti che mi conoscono li e son famoso che posta che ho dato porca troia vi starete chiedendo perché c'è moro vi starete chiedendo c'è qualcuno ha fatto un riff di pianoforte ora un peto un peto il pianoforte non conosci no non era questo è questo è quello esatto grazie a sonic chan e grazie a pets8 buonasera signor gatto mi fai gli auguri per l'esame di estetica di domani tanti auguri per l'esame di estetica di domani e non può che non venite a chiedere benedizioni venite a chiedere benedizioni ma adesso rinizio tra poco il periodo di esame hai ragione pure tu ma di solito chiedere benedizioni anche per conquistare la bella figa esatto mi piace perché ce la siamo proprio pensata correttamente grazie a musswitz salve gatto spero abbia avuto una bella serata ieri bellissima serata ieri mi vede io per il nulla dona e ronald e poi ci si benedisce per tutto quanto esatto cioè un attimo grazie stefano basta comprarsene comunque vi devo bacchettare perché stamattina vabbè che la mia live è durata un quarto d'ora perché poi è andato tutto a puttane ho detto guarda piuttosto che ripartire per l'ottava live mi ammazzo e non volevo ammazzarmi però vi avevo chiesto gentilmente durante la live dei termos di donare 50 euro a moro per fargli comprare il gioco per fare la battaglia golfini versus che va a baro quindi cortesemente alla prossima live dei termos donate 50 euro anzi facciamo così per non fare casino se volete donare per il fondo moro golf lo scrivete nella donazione cioè voi donate i termosifoni vi seguo sempre grandi cazzi grandi mazzi questo va per il fondo che va baro golf ma scusa ma così sembra un accattone io o tu? tu grazie a paul ma io non ho chiesto anzi non lo voglio neanche il gioco per dire ci giocherei molto contro voglia però sì ma infatti nessuno fa la fine della cartone è una challenge sono tutti e due ma non va bene neanche tutti e due scuse no è una challenge dovete donare a moro che così poi giochiamo assieme esatto poi faccio uscire il video sul mio canale sì sono riuscito a comprare il gioco incredibile ma vero così tutto in capo spero che ora non flexare con me per favore grazie a fernio finalmente riesco a seguirla ah sì mi ricordo comunque da quella live tra l'altro moro era a casa mia moro era qui fisicamente anche adesso anche adesso sì però è sotto il tavolo no sono sul letto non c'ho voglia perché sennò si sente l'interferenza del microfono fai bene fai bene sono passati tre anni dall'ultima apparizione di golfini io cercherò di farlo a sua immagine e somiglianza il più possibile lo faremo assieme ragazzi questo è uno dei ritorni più sentiti l'abbiamo evocato c'è da dire è vero è stato evocato ed eccolo qua grazie mucca baffuta l'abbiamo insultato e lui non c'è stato quindi ha detto no no e sconti heavy place tanto 50 euro li ho sborsati che cazzo gliene frega golfini dei tuoi 50 euro bello il numero 15 grande ritorno do golfini grazie mille allora golfini is back in town bitches vabbè cazzo è il gioco ah tra l'altro hanno fatto anche un aggiornamento di hunt con un evento mi diceva luco sai ah sì magari ce lo spacchiamo duro in faccia minchia zio non vedo la minchia di ora per te è tutto nuovo cavigliere guarda vedrai grazie a tizio non sono più minore di tre ma le ci vuole bene lo stesso grazie mille ah sì mi ricordo e stefano decisamente accattoni tutti e due però la benedizione per l'esame di domani vale lo stesso no assolutamente sì tanti auguri sei emozionato moro no per niente proprio ma come mai come mai non hai il pene no per niente cosa è questa informativa della privacy devo per forza sono obbligato allora aspettate che non mica metto i miei dati sensibili poi lo taglia e lo taglia dopo puttana sua madre grazie a grazie a le fanticchia mirs j e enomius ipsur sono dieci non so più cosa dire quindi condivido lumectia scusami e grazie a yuji non ho capito siete pazzi allora nome piero angela ma perché devo mettere nome e cognome della privacy qui scusami che privacy è? ma come andare a vedere questo evento paese algeria no che algeria italia e grazie anche il leo ah si mi ricordo non c'è l'italia oh che è quella quell'italia ah è un evento polo va bene è uno si gioca in singolo si si gioca in singolo l'aveva detto luco ma c'era salta c'era scritto salta vabbè ormai non via to con quale levetta si fa lo swing di solito nei giochi con la sinistra e con la destra che mi sto incasinando grazie al diavolo lo swing di cose è quello della botta di golf lo sticcato questo non so io non mi ricordo qual'è quella che si usa di solito o usiamo quella di destra nessun gamepad è rilevato come scusami aspetta è un gioco del culo grazie a nuclear look ma salve gattone non so che dire non so di che gioco state parlando ma sono curioso ma come grazie anche a nenodrugo a dorian barocca se ragazzo faccia io sono quel faccia di pilla che per sbaglio l'ha dato l'appuntamento l'abbonamento ai termosifoni che schifo cazzo che bravo che sei mentre mio stavano che sfiga non ne vado fiero e beh certo bravo grazie a pezzi sempre per l'esame di domani tanti auguri per l'esame di domani e grazie anche a desmo ah si mi ricordo non è che ce n'è tanto da andare fiero effettivamente nel subarsi a te ha fatto una cazzata ha fatto una cazzata certo ma che puttana ok grazie John ma a me non frega un cazzo io so già giocare a golf eh ho capito stop fatto 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 ma quanto urla poi questo John posso abbassare la voce di John in maniera ok salta a fase bravo mi urla nelle orecchie grazie a Fedekar e a Luca Drake madonna l'orologio di fare parla per sempre John ma ha rotto anche un po' il cazzo non smette mai ammazza che ammazza 2018 è un cane c'era un cane non ho visto il cane ha rotto le palle l'ho fatto otto volte e dai grazie a radio grazie a radio orze gattone questo mese è bello perché mi sono innamorato che bello che bello grazie a Fedekar che sostiene sempre ha rotto le palle non smette di parlare è rampuda cosa c'è di meglio vedere un gatto che gioca a golf giusto la figa io salto alla fase della lezione posso giocare? basta ma lo so fare lo so fare non volevo toccarla così poco troppo forte ok questo non si è rilassato proviamo di nuovo ma non ti continui a parlare anche poi quando esci sul desktop perché è un coglione rompe le palle ma si ma so come si fa semplicemente lo faccio di merda parlo bene scusa perché lo fai di merda non c'ho voglia ho capito ma è per il campeonato magari qualifica e ti goccia gente che ti guarda importante non c'è su Twitch questo gioco non ce la facciamo cosa? ma si c'è però non c'è l'immagine c'è non c'è l'immagine ma si ma lo so esci oh che fatica grazie a Paolo che fatica ragazzi vorrei abbassare l'audio di tutto audio ecco sei ancora vivo moro si bravo ok parla si ok stai coprendo il gioco perfetto ah posso anche mettere le impostazioni grafiche tipo a ultra ad alto non c'è ultra dammi ultra eh c'è 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 una 1080 figa 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 moro falchetti si se gli donate 50 euro invece fa cosa modifica golfista mi fa schifo il golf in realtà che nazionalità era golfini mi fai una rapida ricerca per cortesia come cazzo faccio apri il video golfini non me lo ricordo che era tutto tutto tozzo allora la sfida o quello prima quello prima mi sa ma senti che odio di merda avevi veramente brutto che merda allora fammi vedere e deve passare la musica lo so ma perché ogni volta che io regolo l'audio di qualcosa poi me lo cambia non si è visto l'hai mandato avanti veloce no come aspetta provo ad andare fammi mettere frame by frame motion allora ok modifica golfista grazie signor Alberto ti ho conosciuto grazie ad Antonello tre anni fa grazie a questi anni di compagnia sei migliore grazie a me irlandese l'hai fatto perché volevi mettere italiano sicuro ma hai sbagliato no non è possibile invece andavi giù l'hai messo a cazzo ti assicuro di no irlandese eccolo lì torniamo all'aspetto ma corpo ah ecco lo posso fare ciccione si era basso golfini era un bel personaggione era golfini non voglio più fare questa live ho riguardato come vuole golfini eh ma sicuro ma sicuro ma sicuro si può fare di quel colore lì che non credo eh scusa e i capelli tendo gioca sempre lo stesso no è sempre piggiatur eh no ah beh beh guarda si può si può dai si può lo facciamo un po' più sportivo un po' più sprizzante dai colore secondario c'è anche vai gli facciamo i colpi di sole a golfini rossi bello di garba così eh un grande ritorno gli facciamo un po' di lifting a golfini non aveva barba era un po' più vecchio era un po' più agé è vero però non aveva barba e baffi aveva questo incipit qui di del 5 di pomeriggio aveva un naso anche un po' più era un braccio cappelli eh si che bavaro era veramente un che bavaro cazzo è per quello che era bello se ah conciattura dove sono i ricci qua e non ci sono cazzo no beh si sono qui non aveva una barba comunque i golfini no neanche così rada non mi pare fammi guardare meglio eh però cazzo non c'è non ci sono i cappelli fichi che aveva golfini vabbè li facciamo allora aveva il nasone il nasone glielo faccio dopo sì la barba forse un pelo ce n'aveva ma molto più rada di quella cioè c'era solo un po' eh lo so però non c'è allora togli ma non ce l'aveva non è vero non ce l'aveva il colore c l'acconciatura il nasone un po' più labbroni e adesso andiamo sulla faccia mi piace perché io e te siamo famosi per fare delle live praticamente incentrate solo per la modifica dei personaggi ti ricordi Bloodborne? non è vero non è vero porca vacca Bloodborne te lo sei fatto tu ed era terribile non c'eri anche tu perché poi ci abbiamo giocato assieme il naso era giusto non me lo fa fare più importante davvero un po' più di vozza aspetta in mascelle la vozza posso darsi no c'è proprio la gola aspetta che me lo me lo arrotondo un po' ma che naso non ce l'aveva ce l'aveva più schiacciato ce l'aveva ce l'aveva largo aspetta curva a naso no come si fa a fare il naso un po' più schiacciato a lunghezza orca miseria era così eh si era largo in questa maniera peccato perché non si può farlo un po' più più gonfio questo qui è il massimo vabbè è il figlio di golfini questo qui perché non si può fare il personaggio uguale me lo sta facendo giovane in ogni caso non c'è età tipo sesso aspetto abbigliamento no colore degli occhi te lo ricordi occhi di gatto intanto non era giallo ma era scuretto è scuretto è venuto giallo in live no è scuretto è arancione più che altro gli occhi un attimo colore della pelle ah guardalo posso fare un po' più agé attenzione carnagione gli occhi ce li aveva chiari è scuro chiari va bene quelli da gatto che dici sono un po' troppo gialli secondo me va bene adesso li andiamo a modificare ecco questo è un golfini un po' più vissuto non è male gli mettiamo anche le zampe di gallina perché no delle occhiaie perché è uno che purtroppo non vince da tanto tempo i nei sulle occhiaie i foruncoli sulla guancia ma che schifo scusami rughe sulle labbra no aspetta che io le labbra gliele devo fare grosse i occhiaie ci stanno le labbra grosse sì caratteristiche facciali bocca eccola qua eccolo così eccolo lì i golfini gli hai fatto gli hai fatto un po' la scucchia invece c'ha il labbro superiore più avanti non posso farlo non posso farlo non si può modificare più di così questo c'è adesso gli occhi glieli cambiamo il colore della pelle allora grazie mille a Gabona a Buford a Hank e a Greg scusatemi ma siamo presissimi questa sera dicevi gli occhi il colore il colore che devono essere chiari ci sono delle palline da golf come occhi attenzione dimmi se possono funzionare sono bianchi però scuri grazie a Gino bianco scuro che colore è un bianco ombreggiato ci può stare ci può stare dai è golfini cazzo guarda c'è le palline da golf cos'è che è questo abbiamo già messo poi altro che mi consiglieresti in questo momento sopracciglia devono essere che abbracciano di più l'occhio folte ma che non è sì però se ti devi spostare mentre ti faccio scemo eh ok così grazie a Phil poi puoi cambiare il tipo del sopracciglio il tipo del sopracciglio non so dove prima c'ero entrato forse era in capelli eh tipo sopracciglia eccole qua che abbracciano mi dici guarda ci sono queste qui le prime forse le prime le prime o le quinte le prime dai dai andiamo di prime e colore sopracciglia naturalmente è dello stesso colore del eh scusami mi sembra di no no ok controllo cazzo grazie a Dishward allora colore delle sopracciglia conta che è invecchiato è un po' rosa solo che il rosa è sempre troppo sparaflesciante quindi anche quello dei capelli forse è un po' troppo sparaflesciante eh sì che è troppo sparaflesciante deve essere più desaturato deve essere anche perché è anziano aspetta guarda gli faccio un viola un po' più scuro e come colore secondario gli mettiamo il bianco o un rosa più chiaro no mettilo più desaturato guarda è diventato rosso no guarda che è diventato perfetto rosso perché il colore secondario era rosso eh esatto esatto hai visto perfetto sì sì ok gli mettiamo tanto un po' di rosa qui guardate che straordinario purtroppo non ci sono i ricci che era eh vabbè ha cambiato capigliatura naturalmente perché i ricci non possono giocare a golf li l'han detto e ha cambiato capigliatura infatti in questo gioco non ci sono i ricci colore delle ciglia ecco qui cazzo vuol dire avere il colore delle ciglia oh mio dio una drag queen no no perché toglilo non voglio le ciglia colorate per favore è troppo ho un limite anche io scusate ok la maglietta com'era verde no non era verde green screen sì era verde green screen la maglietta non c'è il colore bastardi guarda te colore della pelle mica l'hai cambiato eh ma per guarda che è scuro eh ma non è non è così scuro è più chiaro dici eh ma no che tu l'hai fatto arancione però lui era era grigiastro più chiaro era grigiastro aspetta eh pelle eh moro guarda che non è che ci sia tutta sta gran selezione adesso ti dico io ti dico non c'era il completo fluo adesso vediamo perché deve essere uno non può essere abbronzato normale deve essere arancione però scusa metti il quinto fa vedere com'è il quinto sembra un mafioso è troppo saturato eh eh sì è tutto super coloratissimo grazie a secco johans e a pepouts accettiamo cioè sì alla fine per moda si è fatto dare un po' di abbronzante è rimasto così purtroppo ah rughe sul collo aspetta eh dobbiamo metterle dai è vecchio poraccio un po' maradona eh è un po' maradona sì allora dovevo modificare ancora una cosa è il vestito giusto e non c'è il verde fluo porca vacca quindi eh vabbè andiamo su ah sì mi ricordo non c'è una maglietta base proprio quella da stronzo che per la prima volta vede un campo da golf ah sì mi ricordo no cioè in realtà c'è però me la fa del colore che gli pare a lui scusami perché la maglietta va bene quella che c'hai ma deve essere verde fluo eh sì ma guarda che quando la vado a selezionare c'è il colore nero la metto ma diventa blu o forse cioè devo fare qualcosa per cambiare il colore credo sia nero ma sia colore base tipo forse lo selezioni eh stavo guardando che magari lo devo sacca da golf no vabbè queste sono le salle pantalone bianco deve essere pantalone dovrebbe essere bianco sì però guarda la selezione è bianca ma lui c'è la nero ma scusami golfini ma che cazzo mi convini bravo non c'aveva lo shorts ce l'aveva lungo no no ce l'aveva lungo ce l'aveva lungo allungo i guanti in entrambi le mani eh non c'è la carpa bianca va bene è già quella che c'hai non posso mettere i guanti su entrambi le mani però eh che palle che palle questa cosa sì sì non aveva occhiali vero no no e vabbè partiamo così ragazzi vabbè i vestiti li ha cambiati giustamente cambio di squadra bastoni amatoriali sì bene e scollegati no carriera pga tour eccoci finalmente grazie a scoreggia fantasma 95 che si salva spero che fa ridere 1400 cioè abbiamo faticato tutta l'estate poi 1400 spettatori per vedere la creazione di golfini porca pittana non gli ho dato il nome aspetta il nome scusami perdonami il nome dov'è non c'è come faccio a dargli il nome il nome è il gatto no ti esce il gatto 92 è una merda cos'è il gruppo no perdonami golfista modifica golfista attrezzatura non c'è il nome il nome è tslgatt92 no non è vero tslgatt92 sono io infatti ti fa vedere informazioni aspetta eh no infatti ho capito che l'ho messo irlandese beh è giusto è come il golfino originale no aspetta forse magari dicono che con y cambi colore comunque per l'eroe oh grazie modifica golfista adesso lo facciamo eh cazzo grazie inghi non è vero in realtà che inghi mi ha detto che in chat hanno detto che è una cazzata comunque non lo fa adesso l'ha cambiato devi farlo da prima della sensazione di vestito dai eccolo qui più sgargente che mai grazie a zoni ecco il pantalone mi era bianco no? si ok un po' un po' meno desaturato un po' meno un po' meno un po' un po' più desaturato ok aspetta vado un po' più in giù ok così dovrebbe andare ok poi mi andiamo sul pantalone no questo è un leggings direi di no il pantalone mi va su un bianco 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 candido un po' sporco un po' e un po' to' eh? mi sei fulminata la lampadina della per forza ci hai messo davanti un fazzoletto grazie a dalangulon e a jordan a bapangulo ok cintura nera si può fare? cintura nera credo si possa fare moro dai se si può fare siamo a cavaldonato non si può fare moro ah si può fare si può fare e l'abbiamo fatto il doppio guanto si può fare? non si può fare cioè non lo so adesso provo a fare usa e modifica anche lì ma non credo sai no non si può fare però a me non piace la maglietta gatto a parte che il colletto deve essere della stesso colore della maglia ah lo vuoi proprio identico? certo le cose le facciamo bene ho capito ma è invecchiato io ho detto ma non è il colore anzi se è invecchiato il colore ti si sbiadisce non è che ti si accende adesso è un verde un verde più lime verde più lime verde più lime verde lime non so neanche che tonalità andartelo a pigliare questo è il verde lime sul giallo sul giallo sul giallo sul giallo il verde lime sì un buccia del lime ma questo è verde lime dai la maglietta sotto il colletto lo vuole lo stesso colore e adesso mi dai 6 o 7 ore che lo vado a piscare e invece Moro sarà leggermente più verde anche col cazzo che sto lì boh pronti siamo pronti ecco tutti gli abbigliamenti però quel doppio guanto mi dà un fastidio che non c'è ma anche i capelli per avere il secondo guanto devi cliccare il secondo guanto è bloccato eh niente premio sponsor per la carriera come? oh sono i capelli più fluono i capelli sono è invecchiato è invecchiato ragazzi è invecchiato dai dai carriera più gia tour ci siamo magari il nome me lo fa fare adesso eeeh ma magari mi fai iscrivere al torneo di golfe difficoltà facile non molto facile facile che school final gioca evento e niente mi ha chiamato gatto sono un po' triste tove grazie cordio entri entri si accomodi e grazie anche a vreal vreal vedi c'è il gatto che merda quindi è morto golfini niente è la live golfini dai il nostro personaggio è morto gatto moro no dai no l'abbiamo ricreato invecchiato gatto non esiste povero antonello povero antonello che parla forte aspetta non ti sento moro cambia nome su steam va bene non so come si fa mi ricordo dopo lo facciamo come si cambia l'audio di queste persone ma io ho passato solo il volume della musica pensavo di aver abbassato il volume di tutto perché tu sei stupido si si ok come vedo il coso così no il mouse cortesemente lo togli moro sei pronto per il primo tiro di golfini dopo tre anni si che sleppa c'è che a re arrugginito no no direi di no partita la zolletta tra l'altro se vediamo anche ma nel deserto ma scusa c'è questo oasi di verde nel deserto più totale eh si ma un sacco di campi da golf sono così secondo me il gatto è una cazzata come una cazzata perché quella che hai detto si vai a cercare sono nel deserto i campi da golf si cazzata guarda vai a cercare lo voglio lo cerco campi da golf Dubai ho capito ho capito allora fa culo sei capito giù dove è andato che cos'è sto sbiego sei a Dubai sei non lo so però è pieno a Dubai scusa che vuol dire dai che merda esatto hai fatto la cazzata si cazzata di cazzo ho capito ma da dei colpetti da bastardo io mi impegno lui da dei colpetti da bastardo cosa c'è l'imitatore non vedo nessun deserto nei campi da golf ma cerchi i campi da golf veri e quelli veri cerchi i campi da golf e quanto sta andando dai non voglio vedere mor mi distrai però eh in mezzo al deserto l'aria che tira puttana la sua mamma guarda l'aria che tira anche in Arizona sei in Arizona perché le unità di misure sono quelle degli stronzi e non quelle giuste non so se si possono cambiare perché nel golf effettivamente si usano le yard fammi vedere gioco sarà non c'è mica sai progettista display hud aspetta forse qui visualizza un'ità imperiale ah guarda c'è anche il metrico posto imperiale tronzi ma è storto golfini ok ma stai tenendo conto delle condizioni di tutto si c'è il vento contrario e ho capito allora giochiamo a merda giochiamo e moro se tira delle merde però anche lui cioè non si impegna guarda ho visto una pianta ho visto cosa ho visto no dopo guarda che merda che tira jumanji edition il par era 4 guarda che c'è una segna però il par era 4 abbiamo fatto 14 dai allora ogni volta non è possibile gatto cazzo un po' di impegno ti applauso sempre no dai non me lo fa fare l'ultimo tiro per forza mi ha dato solo un più 7 dai va bene è recuperabile cazzo ma non hai preso la mira una volta si cazzo sempre ma non è vero c'è impendenza mira vi dritto guarda 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 il vento tira un po' più in là io tiro un po' più in qua guarda potunfete che storto come si è qualificato questo qui poi eh ha pagato guarda che costa milioni iscriversi sto dando il giusto vantaggio agli avversari giustamente giustamente aspetta ecco questa qua va dentro buca in uno no 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 la sabbia ah no beh è uscito tra piccolo mi divertivo un sacco giocare a mario che facevo nel game boy non è la stessa cosa sai ti giuro dovevi scegliere la mazza dovevi scegliere ti assicuro che fosse uguale un murino che faccia uiiiiiii cazzo mi manca ma perché sei un deficiente però scusa ma scusa che tiro devo fare col patica una via di mezzo non c'è sì e allora ma che scusa quanto va avanti c'è Bugs Bunny sotto con la calamita non è possibile dai ma guarda che il praticello lì dove c'è la zona della pallina è è bassissimo quindi ma lo so e però la palla scivola certo che scivola ma guarda che palla di berna ma non in salita però non deve scivolare in salita guarda e dai il tutorial non lo faccio io so già giocare ma so giocare lui che è stronzo scusa non è vero chi è che lo comanda lui eh lo comando io però io faccio una cosa con la mano e lui fa è perché perché non hai fatto il tutorial ma certo che ho fatto tre anni fa non è imbarazzante è morto è morto è morto con dignità ma perché va storta scusami c'era l'aria eh sì ma che inculata nel row è truccato sia adesso rio esprit vince lui casualmente non c'è il vento però eh eh no scusami non c'è una roba un po' più lunga ecco perché è storto niente nella savana che cazzo è che mette le i cosi le buche con la sabbia con le rocce è pericolosissimo deve andare lì attenzione oh yes stai iniziando a ingranare ho ingranato è vinta questa dai più dodici hai recuperato quante eh abbiamo recuperato i tre champion is back grazie a Paselli per i suoi nove mesi si sta bene buongiorno siete pronti guardate questa come ve la caccio da dio non è andato eh guarda qui che perfezio oh 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 no no beh dai e senza quanto no ne ho uno eh sarà quello eh è quello che mi sta impedendo di giocare bene sai ottimo ottimo allora tiro fino a qua perdonami ma sei uno stronzo golfini potevi portarti via qualcosa di un po' più lungo ingegnere nessuno grazie anche a lei e spatunfete guarda chi che sleppa eh ha detto anche pretty good signore e tiro non hai neanche zollato la zolla non è una cosa che si dovrebbe fare infatti appunto fino adesso hai bucato tutto il campetto campetto cosa siamo l'oratorio più o meno che merda però fa buca attenzione nessuno ha battuto sulla cosa più lunga chiedono e dai no e no era perfetto al patronato certo che è chiuso tra l'altro ci sono stato oggi al patronato perché avrà scoperto che è una cazzata a chiamarlo no no moro no moro no questa qui era da fare in una era da fare in sei in quattro io l'ho fatto in sei no dai che sto parlando dai però mi hai parlato cazzo non è giusto stavo pensando infatti in miei ho dato una botta si pensa a sto cazzo cazzo si che botte diceva però c'è moro che mi distrae ho capito ma ce la stai facendo sono sei mesi che si io immagino tutte le persone che li stanno guardando e c'è sto coglione che gira intorno alla buca da mezz'ora stavo andando stavo andando a me mi ha fatto ridere mi ha fatto pensare mi ha fatto ridere impara a giocare guarda qui che tiro della madonna eh eh e il vento non ha ventato giusto puff nella sabbia 5 km è orario il vento infatti capito l'hai tirata tutto di fianco sono 5 km orari non 6 metri scusa cazzo vor la base e e ostia no ostia uuuuh si ferma si ferma niente si ferma c'ha il freno a mano tirato la pallina colpa mia adesso occio che adesso scivola mmm mmm yes quasi par esatto ma guarda che testa di cazzo cosa vuoi guarda che sono a solo 15 punti da zang grazie alla gina per i suoi che tu lo mesi no si pronuncia come si fa qui che poi la partita di riscaldamento questo qui è un torneo di beneficenza mica mi pagano eh ho capito prendi per culo tutti i malati di cancro così non è mica per il cancro è beneficenza per quelli che non hanno capelli allora prendili per il culo Gabriel sei indignato per caso guarda come va dentro dai dai tua mamma puttana a causa del cazzo quindi prendili in giro gatto mi fa ridere che di cattivo gusto gioca cazzo il golf è facile ma questi sono 376 metri sai quanti sono in chilometri? sì quanto? 15 metri quanti sono? scusa quanti caccavo scusa perché andate di qua? colpo perfetto è andato in mezzo alla gina oh signore si sposti eh sì non è possibile come è successa questa cosa qui scusatemi c'è qualcuno che ha dato un colpo di tacco per buttarla dentro perché non c'è non c'è risoluzione qua c'è qualche criminale che va ha tirato un'inculata non mi hai dato l'effetto il vento l'ha fatta girare dal vento glielo dato l'effetto glielo dato e allora vedi che sei pirla poi la pallina gira taglia il vento grazie isaffungo ah questa mi è andata decisamente meglio di altre la fisica è da rivedere ma infatti secondo me è fantamale l'ho calcolato il vento certo se no non la spianavoli a sinistra perché mi avete preso ragazzi poteri forti vogliono fermare i golfini è per questo che modificano il meteo ma che non ce la fai moro cosa ma forca vacca glielo state regalando per favore 50 euro non vi chiedo tanto che poi dopo voglio vedere il duello che fa tanto lo sgaggio però è una pippa guarda ti batto alla prima ostia non c'ho voglia comunque di giocarci ma guarda che bella la grafica sei zitto la grafica impara a giocare come gabriel così? gabriel c'hai ragione guarda per cosa? per i pelati di prima ma quanto di ritardo è arrivato? scusa al buff? non lo so non lo so boh ok aia mi sa che ho dato una sleppa troppo sleppa aaaaa ok non ho capito poi il discorso che si è andato a creare tra Danny e Jules se vabbè chi si non si è andata avanti tanto opposto se è scusato finita attenzione moro se questa va dentro viene a casa mia cos'è? cos'è questo? eeeh vai e mi dai 1000 euro si si ho rischiato eh tutti devi averli tutti in tasca e dai no ok che poi tu scusa sei il mio caddy mi dovresti dare dei consigli in questo momento eh gioca bene scusami che cazzo gioca bene eh non è che posso dirti i trucchetti i piccoli consigli se sei una merda scusami ma tu sei una merda i consigli i piccoli consigli per migliorarsi gli si dà uno che già è bravo a giocare ma se tu sei uno stronzo non è che posso dirti eh eh ho capito sono uno stronzo dammi dei consigli come faccio a non essere più stronzo? scusa cioè sono uno stronzo come miglioro? eh fai il tutorial grazie ancora grazie a bucumela è all'icone perché ho mirato la? perché c'era il vento ah si mi ricordo non funziona il vento no infatti il vento funziona solo quando li para a lui prova a non contarlo il vento va bene allora in poi non lo conto più lento lento cazzo non so se non te fossi accorto nyeee a parte che guarda cioè si vede come muovi la bolletta e vai tutto a cazzo per forza voglio vedere te porca vacca si gioca col mouse come si gioca col mouse devi spostare il mouse davanti e indietro penso di si è impossibile vaffanculo ah si mi ricordo se prendo la mazza basta cioè il mouse si sposta quindi basta prendere una mazza vera colpire il mouse è uguale guarda che tiro della madonna moro diventa il gioco di golf vero e il vento però era due chilometri e me l'ha spostata vinci che fa più punti no? è certo che ha fatto palo? grazie anche a blackmore 20 mesi che rimpiazzamento si effettivamente non ci sono più le animazioni di incazzamento la buca è in uno eh sì cosa sono? dio non è mica golf with your friends qua che si cazzeggia dai siamo a più 20 colpire ho venuto molto vicino a dio allora questo è un limone è andata sempre storta alla fine cazzo 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 eh sì cazzo e vai e vai che non va la canottiera sotto nella maglietta questo dettaglio incredibile non lo vedo non lo vedo no 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 perché è andata storta? io che non lo noto questo dettaglio sto guardando la schiena di golfini devo mettere un 4x sulla mazza golfini in abbo vabbè ragazzi sono tre anni che non ci gioco credo le scarpe come si vede la canottiera? scapole le scapole nel senso che non sono sposate sei zitto per sempre guarda Moro non devi essere geloso della mia bravura nel golf ah guarda infatti dicono di sì secondo me dicono cazzate io voglio ricordarvi che state guardando un gioco di golf e vi dovete comportare a modino che schifo ma che buca è questa? la 13 ci sono 16 18 posso recuperare? no perché? bah come dire impara a giocare e poi guarda come va guarda come va no no e non è la bandiera dell'irlanda perché golfini è irlandese ragazzi unbelievable vabbè che in realtà sono stato sfortunato all'inizio perché per il resto sono andato sempre bene vero? sì che è vero è vero è vero vero è verissimo guarda cazzo vuol dire che non è andato dove aveva pronosticato di andare poll è vero cioè guarda che popò di tiro no 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 e invece cazzo come si è piantata scusa scusa cosa è questa zona qui no non so come ti sei infilzato nella sabbia ma è il patter sto usando il patter qui non si può usare il patter qui e vaffanculo per forza e nella sabbia sei ma ha dato quello che era il più il più coso il più corto e beh non è non è non era è impossibile se lo usi come paletta si fa e il cazzo è tutto piatto si apposa tutto beh guardalo yes dobbiamo fare le motte di golfini no come no perfetto buca 15 attenzione invecchiato il golfini si però ragazzi dovete sempre considerare che è un mago in quel che fa con 3 anni è invecchiato di almeno 10 beh io non me lo ricordo neanche così bravo in realtà sinceramente come no non mi ricordo una leggenda che è peggiorata così tanto eh super babu ho abbandonato anche quello per i sub fai tu guarda che tiro che va dentro no che sfiga ha detto fantastic work moro ma non lo dicono tutti come decidere al punteggio guarda guarda moro cazzo eh che tiro gatto che tiro gatto perché tiro dal coso delle donne aspetta adesso mi è venuto perché sto tirando da da quello delle donne gatto hai sbagliato il gender ostia non mi pare gatto scusami questa qui è una donna brutta ma no era adesso che noto come si mette la telecamera libera scusa come si fa per il punteggio scusa eh no niente sto modificando cose vorrei girare la visuale come si fa perché di solito le palline quelle rosse sono per le donne sono anche un po' più avanti e cazzo questo qui ha le palline rosse e se avete notato prima nel aspetta B con la B si vede eh no è un gioco sessista il golf le donne tirano sempre da qualche metro più avanti perché non ce la fanno eh figa a livello di forza una donna è meno forte di un uomo e chi l'ha detto questo la biolitica la biologia quindi le donne sono diverse gatto stai dicendo questo e grazie a dio se no sai che palle quattro per la precisione quindi le donne non possono fare quello che fanno gli uomini no lo possono fare ma più vicino noi che cosa mi hai fatto fare avete sentito cosa ha detto possono fare ma con qualche metro di vantaggio guarda te avevo vinto è arrivato a espeto mi ha fatto perdere guarda caso dà la colpa sempre agli altri e non che sei una merda moro la vera merda qui sei tu io sono seduto comodo è la copertina è la copertina e faccio quello che no senza copertina sono comodo ma senza copertina faccio quello che fanno tutti gli italiani faccio ti lamenti? no giudico giudico le persone che fanno qualcosa che io non so fare ma lei mi ha una curiosità secondo te quel simbolino di trasmissione dati sta inviando i nostri cazzi vedi che c'erano delle palline più indietro di noi quindi odi le donne gatto che te la sei presa così tanto e no vorrei capire di che sesso ho fatto il mio personaggio però ci sono delle palline anche davanti a noi adesso non capisco più magari sono per i per i bimbi per quelli di merda questi per quelli che non sanno giocare ah forse perché ho fatto faccia mi sembra una cazzata lo stesso ma non ha senso comunque è facile perché è semplicemente qualche metro in più in meno c'è qualcosa lì è al 100% per la forza fisica e basta guarda che va dentro ho fatto anche l'achievement cazzo gatto what a shot oh my goodness wow recuperissimo gatto cazzo qua a che buca siamo alla 17 ho sempre creduto in te però c'è da dire che quelli quelli in vantaggio hanno fatto una buca sola cioè ne hanno fatto solo 4 buche buoni tutti secondo me non sono l'ultimo mentre non lo so molto cioè guarda il secondo ne ha fatte 2 è buoni tutti comunque a far così no eh eh i punti rimangono uguali e qui ci sono dei brogli vai con la 18 eh gatto golfini tira più avanti perché è un torneo per dilettanti ok con la 18 mi rifaccio guarda questa va di cioff questa cioffa te lo dico io questa cioffa attenzione cazzo cazzo no varie moro questa era da cioff non era da cioffa è caduta mezz'ora prima beh da cioff non intendevo quello da cioff intendevo che capito da cioff è quello non è che intendevi è quello è arrivato 142 esimo quanto sei arrivato scusa non lo so ho skippato provare a expo che mi sta dando eh ma ha vinto una donna scusa perché tirava da più avanti per cui sei tra le donne è sbagliato inizio ad avere dei dubbi cazzo cazzo mi ha dato scusami un secondo hai segnato 142 esimo non 42 esimo le tue prestazioni non sono state sufficienti a garantirti un posto nel web punto camp tour dai il tuo sponsor ha raggiunto il livello 2 che culo penso che è stronto lo sponsor che mi ha dato lo sponsor scusami ma la signorina zang ma io sono uomo devo sapere dov'è che vedo il mio personaggio dov'è golfini erano lì modifica golfista è uomo c'è scritto uomo allora ma potrei comprare un cappello ma non lo farò non mi interessa avere un cappello se no mi vedono i capelli c'è un sesso in corsa nel mentre dici eh si niente non c'è una berretta una coppola no non ce le ho non posso ma c'è lo sponsor non mi regala la coppola scusa la base grazie frank avevo già non mi ricordo sono incognito vabbè poi c'è il matchmaking faremo faremo avremo altre occasioni ragazzi allora io ringrazio il buon Moro per averci fatto compagnia con di stasera è vero ho dato i miei soldi e non allora domani mattina nella live dei termosifoni 50 euro grazie a andrei per i boschi ah 50 euro non serve neanche che li doni un'unica persona ogni ogni volta che volete donare a Moro per fargli comprare eh il golf club 2019 featuring Piggiatour si chiama così lo scrivete nella donazione questi sono per Moro che si compri il golf club TM 2019 featuring Piggiatour per tornare col che babbaro va bene pian pianino come una formichina lo compra e poi gli spacco il culo così impara a criticarmi sempre vedremo noi ci vediamo domani mattina con donne nude e segni scoperti e buonanotte a tutti quanti con i guanti bello bravo grazie a tutti